A Pesaro in fiamme tre cassonette e un'autovettura sono tutti incendi di origine dolosa. Pioggia e vento nelle Marche, decine gli interventi dei vigili del fuoco per rimuovere alberi e rami caduti in strada. A Loreto la ministra Lamorgese ha acceso la lampada per la pace, la cerimonia ufficiata da Monsignor Fabio Dalcin. Abbiamo bisogno tutti di luce, ha detto. Caro Energia, in difficoltà anche i ristoratori, c'è chi valuta di aprire solo nei fine settimana. Le bollette di famiglie e imprese nelle Marche sono aumentate di quasi il 300% in soli sette mesi. La siccità ha messo a dura prova anche la raccolta dei girasoli, si studiano nuove strategie di produzione. Borghi in festa con Marche Storie dal 9 all'11 settembre è il tempo di Monbaroccio alla scoperta dei sapori e delle tradizioni locali. Buonasera a tutti e benvenuti al nostro telegiornale Occhio alla Notizia. I vigili del fuoco sono intervenuti nella notte per quattro diversi incendi avvenuti nella stessa zona, cioè tra il Campus e le Cinque Torri. Ad andare in fiamme sono stati tre cassonetti e un'autovettura, esattamente nell'area ricompresa tra via Palestro, via Goito e via Nantarri. I pompieri sono stati impegnati dall'1 alle 3.50. Nessuno è rimasto ferito ma tutti i roghi sono di origine dolosa sul posto, anche la Polizia di Stato e i Carabinieri. Le piogge di questa mattina, unite alle forti raffiche di vento, hanno divelto staccionate, spezzato rami e abbattuto diversi alberi nella provincia di Pesero Urbino. I pompieri sono intervenuti a Fano, come a Fenile, Rosciano, Carignano, Cucurano e in via del Ponte a San Lazzaro. Ma anche nei comuni di Cogli al Metauro, Mondavio, Monteporzio e San Costanzo. Torniamo a parlare dei rincari energetici. Anche i ristoratori sono in difficoltà. Qualcuno si era già indebitato con le banche per via della pandemia e ora c'è chi pensa di ridurre i giorni di apertura. Da 1000 euro si è passati a 10.000, da 2000 euro di energia elettrica, di gas, da 2000 euro si è passati a 6-7.000 euro. Quindi diciamo l'aumento è stato sproporzionato. Prezzi alle stelle e aiuti statali non ancora stabiliti. Anche i ristoratori sono alle prese con il caro bollette che sta incidendo pesantemente sui fatturati. Il presidente dell'associazione ristoratori di confcommercio di Pesero e Urbino, Mario Di Remigio, parla di mancanza di redditività a causa dei rincari di luce gas che si sommano a quelli delle materie prime. Si salva soltanto chi è riuscito a bloccare i prezzi entro la primavera. Per chi non ha bloccato il prezzo, negli ultimi tre mesi si è raddoppiato, si è non triplicato il prezzo sia del gas che dell'energia elettrica. E questo ha fatto sì che in qualche modo alla fine la marginalità dell'attività fosse sparita proprio per, cioè, lavorato per pagare le bollette. E questo purtroppo è un peccato, perché diciamo che noi quest'anno dobbiamo ripagare i debiti progressi, che la pandemia è stata praticamente, abbiamo subito e quindi per andare avanti abbiamo dovuto ricorrere ai finanziamenti muti e quindi diciamo che tra i debiti progressi e la non marginalità per molti sarà un inverno duro. Addirittura per cercare di contenere i consumi energetici, qualche ristoratore sta pensando di tenere aperta l'attività solo nei fine settimana. Per molti, soprattutto, ripeto, nell'entroterra in cui i flussi di gente non sono così importanti, per molti è fondamentale essere aperto quanto c'è gente. Quindi diciamo che si ricorre a venerdì, sabato e domenica, anche perché se prima non c'era gente ma magari provavi a stare aperto, adesso col cara energia bisognerebbe fare due conti se vale la pena veramente essere aperti o aprire solo esclusivamente quanto sei consapevole di lavorare. E per quanto riguarda l'energia elettrica, secondo le stime del centro studi della CNA Marche su Datiterna, le bollette dei marchigiani hanno subito un incremento di 925 milioni di euro in sette mesi, pari al 296% a fronte di una maggiore richiesta di energia di appena il 2,7%. Anche per il gas le imprese marchigiane si sono viste quadruplicare i costi. Il comparto più esposto è quello manifatturiero, commercio, trasporti, alberghi, ristoranti e bar sono le attività dei servizi più colpite. La CNA ha lanciato un appello alle forze politiche chiedendo di mettere da parte contrasti e personalismi per trovare soluzioni tempestive e in grado di far fronte a uno scenario che ad oggi si prospetta quanto mai cupo e incerto anche per i mesi a venire. La lampada per la pace nel mondo del santuario della Santa Casa di Loreto è stata accesa questa mattina dalla Ministra dell'Interno Luciana Lamorgese. Dopo l'accensione, durante la cerimonia ufficiata dall'Arcivescovo di Loreto e delegato pontificio per la città mariana, Monsignor Fabio Dalcin, la Ministra ha firmato il registro nel santuario. Poi la lampada è stata posta all'interno della Santa Casa, sopra l'altare, davanti all'effigio della Beata Vergine. Abbiamo bisogno tutti di luce, ha detto Dalcin, cerchiamola insieme e nello stesso tempo accendiamo la nostra luce per curare il bene non solo personale ma di tutti. Sentiamo invece un estratto delle dichiarazioni del Ministro che è intervenuto in Piazza della Madonna. Credo che l'impegno di tutti deve essere assolutamente quello di impedire che il diffuso malessere sociale, portato anche dal virus, sono due anni di difficoltà che il nostro Paese sta vivendo, possa generare delle pericolose spinte disgregative. Io credo che pace, coesione sociale sono i principi, i valori ideali più profondi del messaggio che Loreto offre ai credenti, ai non credenti, rinnovando l'insegnamento laico per l'edificazione di una comunità pacifica e giusta. La cerimonia si è conclusa con la preghiera dell'Angelus e la benedizione dei velivoli dell'Aeronautica Militare. Non solo buche ma anche assenza di segnaletica orizzontale su quest'ultimo aspetto che si concentra alla richiesta di un nostro reporter di strada che ci ha inviato un video dal Foro Boario di Fanno. Buongiorno, voglio fare questo filmato per far capire cosa succede a Campo Boario. Io praticamente c'è una specie di rotondina non segnalata bene, con un divieto di accesso, quindi in quella situazione non posso andare, devo passare di qua. E per passare di qua invece hanno posteggiato tutte le macchine. Anche in mezzo alla strada. Quindi uno si trova bloccato qui. Non è possibile mettere delle strisce che delimitano perché qui la gente non capisce. Un altro video invece è stato pubblicato sulla nostra pagina Facebook reporter di strada Fanno TV. Qui siamo in via Flaminia a Moraglia di Pesaro. Secondo voi, ha scritto la segnalatrice, è possibile una perdita d'acqua di questa portata? Sono passati sette giorni dalla chiamata. Sono venuti due giorni fa, hanno fatto i lavori e questo è il risultato. Poi ha proseguito nel post, ci si lamenta che non bisogna sprecarla, non dobbiamo annaffiare gli orti ma buttare l'acqua potabile nelle fogne sì. Torniamo a Fanno dove diverse persone ci hanno segnalato che negli sportelli Adribus non funziona il Bancomat da oltre una settimana. Proprio ora che ci sono gli abbonamenti scolastici, ha commentato una telespettatrice. Inoltre, considerando che non ci sono più i trimestrali o i semestrali e che quindi per un abbonamento annuale bisogna pagare importi altissimi senza rateizzare, ha detto, chiediamo almeno di avere la possibilità di poter detrarre le spese tramite la dichiarazione dei redditi. È una vergogna concluso e un disservizio enorme. E ora parliamo di agricoltura perché nei campi della nostra provincia si è conclusa la raccolta del girasole. Buona qualità ma poca quantità in pianura e leggermente più alta in collina. La causa? La forte siccità. Il servizio di Filippo Pucci. Dopo quella del grano, la raccolta del girasole è giunta al termine nella maggior parte delle zone della nostra provincia. A rallentare forse gli ultimi raccolti, la pioggia delle scorse settimane che ha posticipato solo di qualche giorno la trebbiatura delle piante. Pioggia che però non ha risolto il tema della siccità che ogni anno mette a dura prova i campi e le culture in tutta Italia. Le alte temperature però hanno permesso alla cooperativa agricola di Falcineto di iniziare con anticipo la raccolta del seme. Come gli anni passati ormai è una consuetudine il problema della siccità. Qui da noi si fa parecchio sentire. Le culture che andranno a passare l'estate in particolar modo si ripercuote una bassa resa, in particolare anche il girasole che tra tutte le culture diciamo che vanno a attraversare l'estate è quella che in qualche modo si è abbastanza salvata diciamo al contrario di mais, foraggi e sorgo. Il girasole più o meno mantiene un andamento. Qui in pianura la resa è dai 12 ai 18, 15 quintali per ettaro mentre in collina terreni più tenaci, più forti. La resa è dai 20 ai 25, 26 quintali per ettaro. È sempre poco comunque, ma comunque diciamo che è l'unica che mantiene una certa media. Tipicità di questa pianta? Il girare continuamente verso il sole. Infatti una volta arrivato a maturità il fiore smette di girare rimanendo rivolto verso est. Il girasole può essere utilizzato sia per l'alimentazione umana che per quella animale fino alla produzione di biocarburante. Ritornando sui campi, la difficoltà di quest'annata è stata la presenza dei piccioni. Siamo dovuti andare a riseminare qualche pezzamento, non solo noi, anche qui gli altri coltivatori. Si imbrancano dei grossi stormi di piccioni e puliscono praticamente un campo quindi sei costretto poi a riandarlo a seminare. Il perdurare della siccità dovrà mettere gli agricoltori della nostra provincia a studiare nuove culture e nuove strategie di semina. Se l'andamento climatico è questo, bisognerà cominciare con delle culture che non andranno ad attraversare l'estate oppure creare degli invasi di acqua ma la cosa è un po' più complicata perché innanzitutto se non piove non si riempiranno neanche gli invasi. Comunque sì, la storia è questa. Sarà ad approfondire la cultura del colza, del pisello, pisello proteico, pisello fresco cose insomma che non andranno a intralciare l'estate. E come aveva annunciato durante l'estate l'assessore regionale Mirko Carloni è stato catturato il lupo che da tempo stazionava nella piccola selva collocata a Sassonia di Fano in prossimità di Viale Battisti. Dopo le autorizzazioni rilasciate dal Ministero della Transizione Ecologica e dall'Istituto per la Protezione Ambientale l'animale è stato catturato oggi pomeriggio dagli operatori del Parco Nazionale della Maiella. L'animale sarà rilasciato munito di radiocollare in un'area concordata e autorizzata dal Ministero dell'Ambiente. L'assessore all'ecologia urbana del Comune di Fano, Samuele Mascarin ha ringraziato tutti coloro che in questi mesi si sono prodigati con passione e professionalità per garantire questo risultato a salvaguardia innanzitutto del benessere dell'animale. La Giunta ammazza alberi ha colpito ancora e questo è il commento della Lupus in Fabula che attacca l'amministrazione comunale di Fano sul progetto inerente al parcheggio di Via del Risorgimento. C'erano due pioppi di grandi dimensioni, si legge in una nota, e tre aceri negundi nell'area verde non interessata dai lavori. Questi alberi, ha proseguito l'associazione, potevano essere conservati perché erano ai margini del parcheggio ma generiche valutazioni sullo stato fisiologico delle piante e sulla loro stabilità, come avvenne per Piazza Marcolini, ne hanno determinato la condanna morte perché la Giunta non dà indicazioni ai progettisti di pensare ad una soluzione degli alberi solo a fine ciclo, realizzando progetti che valorizzino l'esistente, anche attraverso manutenzioni puntuali e appropriate, hanno chiesto. Sembra invece, ha aggiunto la Lupus, che per la Giunta Comunale gli alberi non siano una risorsa ma un problema. A distanza di sette anni dalla scadenza dell'obbligo, ancora non è stato adottato un regolamento sul verde urbano. Visaggi in vista. Domani 9 settembre a causa dello sciopero del personale di guida e di bordo di Trenitalia, sono previste possibili cancellazioni totali e parziali di frecce, intercity e regionali, dalle 9 alle ore 17. La società invita tutti i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione. Non si escludono ripercussioni sul servizio anche dopo l'orario di termine dello sciopero. Cambiamo argomento. Da domani a domenica il Comune di Monbaroccio partecipa, insieme a tanti altri borghi, a Marche Storie, il festival promosso dall'assessorato alla cultura della Regione che invita a scoprire i racconti e le tradizioni delle Marche. Raccontare le Marche attraverso i suoi borghi, i suoi sapori, la sua vicenda millenaria ma soprattutto le sue tradizioni. È questo l'obiettivo della Regione che ha promosso l'iniziativa denominata Marche Storie, una festa che coinvolge luoghi e personaggi del passato lontano o della storia recente, parte del patrimonio culturale. Per il secondo anno consecutivo partecipa l'iniziativa anche il Comune di Monbaroccio. Dopo l'anno scorso con la gran collaborazione con Cartoceto e l'affrontare i percorsi che ci riguardavano la vallata di Ripalta e di Montegiano, quest'anno invece rimarremo nei nostri confini. E quindi ci addentreremo dalla chiesa di San Giovanni Battista, di Montegiano, con gli spettacoli serali legati alla mitologia di Giano e Ciro Pavisa, alla passeggiata per la Via del Miele, passando per Montemiele, con la collaborazione di Federica Oliva dove mostrerà il valore dell'apicoltura e delle api nel contesto di un circuito giovanile che riguarderà molti bambini e ragazzi del territorio, fino ad arrivare al Biatto Sante, per poi scendere per la Via dell'Acqua, quindi per il Pontaccio, e risalire per Monbaroccio tramite Porta Marina arrivando alla promozione del miele, dell'olio e dell'acqua appunto. Troveremo all'interno dei musei contadini e della civiltà contadina coloro che ci insegneranno a fare anche la pasta, quindi la celebrazione del passato che riguarderà elementi futuri, quindi i nostri giovani che guarderanno con un occhio nel passato quello che dovrà essere il recupero delle tradizioni e dei valori culturali del nostro territorio. Il Sindaco ha poi ringraziato la Regione che attraverso questa iniziativa permette a cittadini e turisti di ripercorrere la storia di Monbaroccio e di conoscere il territorio. Alessandro, le iniziative saranno gratuite? Allora, saranno tutte gratuite, a parte un evento in particolare che sarà il percorso e bike verso la leggendaria Grotta del Diavolo e questo prevede un costo promozionale di Euro 35 a persona e ci sarà un giro che partirà dal borgo di Monbaroccio e arriverà fino al Monte della Matera dove è presente questa Grotta del Diavolo che si narra nelle leggende locali che per la sua formazione come conformata è un po' particolare quindi vi invitiamo a visitarla perché non voglio svelarvi di più perché la bellezza sta proprio nel vederla accompagnati poi da una guida turistica per circa tre ore sarà ancora più emozionante. Oltre a vedere questo particolare luogo sarà anche possibile apprezzare tutte le bellezze della natura circostante partendo dal mare fino al nostro bellissimo Entroterra e non vi resta che prenotare perché la prenotazione è obbligatoria è contattare la parroco di Monbaroccio o via mail oppure il numero di cellulare che è indicato in Locandina o sul sito marchestory.it E adesso vi raccontiamo la storia di Enrico Di Cecco un artista fanese sordo dalla nascita lo ha intervistato Cristiana Guerra. 30 anni fa ha preso un pezzo di legno di olivo e iniziò a lavorarlo fu lì che capì davvero la bellezza che derivava da questo tipo di arte Enrico Di Cecco, sordo dalla nascita è riuscito ad andare oltre l'ostacolo e a emozionare tutti con le sue opere 53enne, residente a Sant'Orso Enrico ha frequentato l'Istituto d'Arte Apolloni di Fano e poi l'Accademia delle Belle Arti di Urbino negli anni è riuscito ad ottenere tante soddisfazioni e riconoscimenti è stato inserito anche nel catalogo degli artisti italiani Enrico è sordo ma questo, nonostante tutte le difficoltà non gli ha impedito di essere un artista affermato e conosciuto da tutti Tante mostre ha fatto in tutti questi anni nelle Marche ma non solo in programma che cosa c'è? Ha iniziato a Fabiano, poi è andato a Roma e poi ha fatto tante mostre Aspetto che mi chiamino Ma io so anche che farai cartoceto Farai... A cartoceto, pece, oliva poi, altro segno mostro per sempre Senigallia Ah, a dicembre ci sarà la nostra del presepe a Senigallia Noi qua siamo nel suo laboratorio e ci sono tante opere che materiali lavora Enrico? Legno, piombo, marmo e pietra Dotato di uno stile tutto personale e di originalità nella lavorazione dei materiali l'artista opera con grande fantasia e precisione nelle sue sculture si fondono sacro e profano Dove è iniziata? Qual è la sua prima opera Enrico? È un'opera che lui ha scolpito a mano ed è fatta in pietra rappresenta una nave vichinga Ci faccia vedere allora anche quali sono le altre opere qui esposte? Queste sono principalmente le più belle Che cosa sono? Questa che cos'è? Questa ad esempio è una tartaruga Quella invece? O l'oliva, o l'oliva Quella con il sassi E i sassi Questa qua a terra? Ascoltarmi Si chiama Ascoltare l'infinito Di Cecco ci ha poi mostrato le tante opere che ha esposto nel suo laboratorio A suo fianco c'era anche il papà Giancarlo Più facile per noi Ma lui, quello che viene in testa La stampa Direi una soddisfazione Sì, sono contento Una soddisfazione anche Tutti li vogliono bene Perché è così Ma vedi, c'è anche Conosce questa ragazza Quanto ha bisogno C'è più di una C'è quella che parla E c'è quella che non Tutti l'aiutano insomma Sì, io ho bisogno Perché io sono grande Enrico, lei ha detto Io voglio esaltare ogni aspetto della natura Che mi circonda E direi che ci è riuscito Complimenti da tutti Subito dopo di noi Le previsioni del tempo E poi uno speciale Dedicato alla festa del socio Che è stata organizzata Dalla banca di credito cooperativo di Fano Buona serata a tutti Arrivederci a domani Grazie a tutti Grazie a tutti